Tenta la controoffensiva Shirea, viene fermato da Shlivo che peraltro lo ha mandato fuori campo, ecco il lancio su Shlivo e la Jugosnavia è in gol, sull'assist di Shuriak ha segnato Bujovic gol di Bujovic al nono minuto del primo tempo Bujovic ha colto i frutti di una partenza eccellente della squadra Jugoslava si è mandato in crisi la nostra difesa, ecco guardate l'assist di Aljovic è solo davanti a Zoff, Bujovic, Zoff riesce a toccare la palla ma non è che potesse fare molto di più Jugoslavia riporta in avanti Dozzena, lo rilancia verso Conti ma intergetta Shuriak riprova Shirea e ancora l'arbitro arresta il gioco per un gioco pericoloso da parte di Shuriak che rimane a terra Altobelli Antognoni Conti e Bettega riesce a pareggiare sul cross corto di Conti che era stato deviato da un difensore pareggio di Bettega al 34esimo rivediamo l'azione ecco Conti il cui tiro deviato dal portiere trova Bettega pronto all'appuntamento pareggio di Bettega al 34esimo e Bettega al 34esimo